Buonasera telespettatori del TGC, notizia esclusiva dal mondo del turismo. E' stato registrato l'overbooking in tutti i villaggi Eden del mondo, grazie al nuovo programma Jack Club. Il mondo dello Junior Club cambia faccia. Nuova attività diurne e serali, spettacoli circensi e teatrali per i ragazzi dai 13 ai 18 anni. Ma andiamo a vedere cosa succede all'Eden Village, Mirina Beach di Rodi. A voi servizio. Benvenuti al TGC, oggi trattiamo un argomento importantissimo nei villaggi turistici italiani e internazionali. Il settore dello Junior Club, grazie all'Eden Village, diventa Jack Club, capitanato da personale qualificato che insegna ai propri iscritti attività circensi e l'arte del teatro. Ma andiamo a vedere al Mirina Beach di Rodi, in Grecia, i ragazzi del Jack Club all'opera. Buonasera al TG1, adesso passiamo alla notizia del turismo italiano all'estero. In tutti gli Eden Village, da quest'estate, il Jack Club, una formula per ragioni dai 12 ai 18 anni, ha preso piede circa 5 milioni di ragazzi nelle strutture italiane all'estero. Jack Club, adesso andiamo a vedere il servizio nel villaggio Mirina Beach di Rodi, Grecia. Jack Club, adesso andiamo a vedere il servizio del Jack Club. Quando l'estate arriva dentro la mia stanza, la sento sulla pelle questa voglia di vacanza. E come ogni anno salta fuori un ballo strano, adesso siamo pronti per il ballo del Tucano Jack. Il Tucano Jack, il Tucano Jack, il Tucano Jack, con il berretto verde e il becco lungo. Perché è un'altra stanza che ti dà un palcoscenico da vignaggi, quindi i nostri ultimi profumi dalla mattina alla notte. E poi balleremo insieme, finché il sole viene. No ti dico se ti becco al mare, con l'infradito e la crema solare. E se ti becco affacciata al balcone, con la chitarra canterò questa canzone. Con un sorriso, tu mi hai fatto in secco, ma primo dopo vedrai se ti becco. Senti in picco, vedrai se ti becco. Se ti becco un uccano, Jack. Se ti becco, vedrai se ti becco, se ti becco. Ciao! Ciao! Nome? Riccardo? Tresce! Da dove vieni? Monze! Da quanti anni ho in vacanza in villaggio? Questo via è il primo anno! Come hai conosciuto Jack Lab? Sì! Ho conosciuto tramite un'agenzia di viaggi! Tra l'agenzia! Ti piace il prodotto Jack Lab? Sì! Ora io ci do un pezzo alla canzone Jack Lab! Sì! 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 Consiglia ad un altro ragazzo Jack Lab! Consiglia a tutti perché ci sono stati milioni di ragazzi, qua si sono divertiti e neanche bisogna essere divertiti! Io lo consiglio a tutti! Io ne ho già esperto! Io ne ho già esperto! Io ne ho già esperto! Ci sono milioni di ragazzi! E' una ragazza e bella è la paura! Vedrai che ci riesco! L'orario sul colore! Staremo sempre insieme! I giorni sembreranno ore! Ma mi sono una squilla e dopo un appimo arrivo! Il tuo sorriso sarà il mio obiettivo! Se ti becco mi scompega ti ospirò da bere! E poi balleremo insieme finché il sole viene! Mi ti dico se ti becco a mare! Con l'infranito e la crema solare! E se ti becco a facciata al balcone! Con la guitarra canterò questa canzone! Con un sorriso tu mi hai fatto secco ma prima o dopo vedrai! Se ti becco! Se ti becco vedrai! Se ti becco se 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 ti becco con il becco del tucano Jack! Se ti becco vedrai! Se ti becco se 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 ti becco con il becco del tucano Jack! Vedrai se ti becco! Dio! 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 Dio!